Incidente nella serata di ieri ad Agropoli prima dello svincolo Agropoli Sud. Un cinghiale di grosse dimensioni è sbucato all'improvviso sulla carreggiata impattando violentemente contro un'auto. Il conducente ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto i sanitari del 118 di Agropoli con il supporto dell'ambulanza della Croce Gialla di Vicinella e i carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi del caso. L'uomo, un giovane residente in Contrada Moio ma originario di Bellizzi, stava facendo rientro a casa quando l'animale gli ha tagliato la strada, urtando violentemente contro il parabrezza dell'auto, distruggendolo. L'auto, come si evince dalle foto, ha subito danni alla parte inferiore. Il problema degli ungulati è sempre più frequente nel Cilento e sta mettendo seriamente a rischio l'incolumità dei cittadini che quotidianamente chiedono alle autorità competenti di risolvere la problematica. La presenza degli ungulati si registra sempre più spesso anche nei centri abitati oltre che nelle campagne, una situazione ormai diventata insostenibile e ingestibile dal punto di vista della sicurezza.